Regione Toscana, il Consiglio regionale. All'ordine del giorno nell'ultima seduta del Consiglio regionale, i bilanci e con l'Aula della Regione Toscana che ha approvato a maggioranza il bilancio preventivo 2022 di Toscana Promozione Turistica e il bilancio di esercizio di Fondazione Sistema Toscana. In questo caso si trattava del Consuntivo 2020. Ampio il dibattito in Aula, con tante critiche, soprattutto sulla situazione di Fondazione Sistema Toscana, con un iter di approvazione abbastanza complesso che ha visto in Aula 20 voti favorevoli e 16 contrari e il Consiglio che ha richiamato la necessità di indicare nel programma di attività della Fondazione gli investimenti da realizzare e la quantificazione delle risorse a ciò destinate. Ma noi ascoltiamo nella nostra carrellata i protagonisti del Consiglio regionale su questo tema. Il Consiglio ha approvato il parere sul bilancio di previsione di Toscana Promozione Turistica che è un'agenzia di fondamentale importanza soprattutto in questo momento di ripartenza perché veniamo da due anni di Covid che hanno messo in ginocchio il nostro sistema turistico. È un bilancio che logicamente è ancora di transizione che porta 10 milioni in dote appunto per trovare stimoli e progetti per il rilancio di un settore che è fondamentale per tutti noi. Un'approvazione un po' tormentata, molto contestata in realtà l'unica pecca che ha è di essere un'approvazione tardiva perché era il bilancio del 2020 che ha avuto alcune vicende che hanno richiesto approfondimenti ma ad oggi il bilancio è la prima cosa un bilancio inutile della Fondazione che quindi è un saldo positivo è un bilancio che ha ricevuto alla fine tutte le approvazioni degli enti di controllo gli organi di controllo interni ed esterni ed è un bilancio che ha consentito di verificare per l'ennesima volta come questa fondazione sia un organismo indispensabile per le attività dell'ente Regione Toscana sui fronti della promozione turistica nelle sue connessioni con la promozione e il sostegno all'offerta culturale cioè si occupa di quella settore di cerniera che consente di trasformare la nostra identità culturale il nostro patrimonio culturale in motori, generatori di offerta turistica e quindi di economie anche nel campo turistico oltre che nel campo della cultura è stata anche l'occasione per analizzare temi più generali che riguardano il rapporto con i dipendenti e gli ex dipendenti e gli incarichi ad essi riconoscibili che però ha avuto come esito quello di essere ricondotta nell'alvio della prima commissione per una discussione più generale e quindi il bilancio è stato approvato con soddisfazione a maggioranza e ci porta adesso ad attendere i bilanci di preventivi per le attività del 2022 della Fondazione Sistema Toscana Nel marzo del 2022 ci siamo ritrovati a votare il bilancio 2020 della Fondazione Sistema Toscana che è una fondazione partecipata all'83% dalla regione toscana quindi una fondazione quasi esclusiva proprietà della regione e questo ci ha un po' insospettiti siamo andati a spulciare a controllare come mai nel 2020 il bilancio dal 2020 arrivi oggi e ci siamo accorti che quel bilancio intanto ha due pareri negativi ricevuti dalla direzione bilancio della regione non solo guardando i bilanci ci siamo accorti per esempio che nel 2017 nonostante la regione abbia stanziato 5 milioni e 200 mila euro di denaro pubblico a sfondazione Sistema Toscana ne sono serviti un ulteriore 620 mila per colmare un buco di bilancio la fondazione Sistema Toscana è la fondazione che deve promuovere la cultura il turismo e l'integrazione in Toscana quindi un qualcosa di surreale cioè che la fondazione che deve promuovere la cultura e il turismo del luogo che forse ha più cultura e storia tradizione e attrazione turistica del mondo perda 600 mila euro all'anno io mi auspicavo quantomeno di fronte a questa gestione a questa mala gestione che il direttore generale della fondazione fosse stato rimosso e ci siamo accorti del vero problema della vera anomalia cioè fondazione Sistema Toscana ha avuto per 17 anni lo stesso direttore generale un signore che ha percepito 115 mila euro di stipendio all'anno per fare male il proprio lavoro e dopo 17 anni ha finito di fare il direttore generale della fondazione solamente perché è andato in pensione e un minuto dopo che è andato in pensione il consiglio regionale lo ha nominato nella deputazione di Monte Paschi di Siena cioè gli ha dato un'altra nomina già questo basterebbe secondo me a far attenzionare questa situazione più che le polemiche sui tempi il mio è stato un intervento proprio nel merito dei numeri perché qui ci sono poste che non tornano sono interventi tecnici i miei ho cercato di spiegare all'aula che il credito IVA non può essere portato a fondo rischi perché è una partita di giro il cui debitore è lo Stato quindi più garantito di così non può essere un credito e quindi se viene portato a un fondo a un fondo rischi vuol dire che c'è un problema e leggendo il bilancio mi sono accorta che l'agenzia delle entrate già nel 2017 ha dichiarato questo credito IVA inesistente quindi è stato fatto un errore ed è specificato proprio nella relazione a pagina 74 chi vuole andare a vederlo lo può vedere che è stata considerata detraibile l'IVA su spese di missione le spese di missione sono spese di viaggio ristoranti e hotel esiste una legge dello Stato che dice che l'IVA su queste spese è indetraibile ora mi domando come una fondazione possa fare un errore simile questo è stato appurato nel 2017 tutt'oggi questo credito IVA è in bilancio quindi vorrei capire quando verrà portato a perdita e verrà sicuramente sistemato il bilancio ma non solo questa fondazione è una duplicazione di un altro organismo come Toscana Promozione e Sviluppo hanno praticamente le stesse finalità leggere si discostano leggermente però le risorse che impiegano sono ingenti si parla di 10 milioni di euro l'una e 9 milioni di euro l'altra la fondazione Sviluppo Toscana è finanziata per l'87% dalla regione Toscana quindi sono soldi pubblici che in questo momento di crisi potrebbero essere dirottati su aiuti a favore delle famiglie che non riescono arrivare in fondo al mese alle imprese che si trovano di fronte ai maggiori costi per l'energia elettrica quindi non capisco come mai non si arrivi a una razionalizzazione delle risorse e anzi si usino queste fondazioni un po' come dei meccanismi per creare lavoro non solo ai 71 dipendenti ma anche a consulenti esterni perché la società la fondazione scusate ha ben 4 milioni e 600 mila euro di consulenze che non vengono nemmeno specificate nella relazione per questo ho fatto una specifica richiesta di accesso agli atti perché voglio avere i dettagli di dove sono andati a finire quei 4 milioni e 600 mila che non si sono verificati soltanto nel 2020 ma anche gli anni precedenti quindi qui c'è un problema di gestione non di dipendenti perché i dipendenti eseguono essenzialmente il lavoro che gli viene fatto e gli viene richiesto quindi il problema è la gestione come dicevano anche altri colleghi in aula non si capisce perché in 17 anni è stato mantenuto sempre lo stesso dirigente il nostro voto è stato negativo infatti è emblematico che oggi marzo 2022 si voti l'approvazione del bilancio di fondazione sistema toscana del 2020 ci sono state varie problematiche infatti già a settembre sono state chieste integrazioni e modifiche che poi sono arrivate a gennaio diciamo che è stato detto che le cose andavano bene abbiamo votato in commissione qualche giorno fa è passato a maggioranza noi diciamo cosa c'è che non va in fondazione sistema toscana qualcosa c'è che non funziona lo dicevamo anche negli altri anni va avanti con il 90% di soldi regionali quindi è giunto il momento di fare una riflessione su questa fondazione e anche su toscana promozione perché per certi versi si assomigliano e quindi secondo noi forse ci vorrebbe un'unica regia sicuramente su questo fronte siamo estremamente critici siamo estremamente critici sia da un punto di vista di reale opportunità e anche di efficacia di tenere insieme alcune situazioni ci riferiamo in particolare a toscana promozione ma potremmo anche parlare di arti diciamo che nel dibattito consigliare e soprattutto in quelle che sono un po' le finalità di queste agenzie noi non troviamo risposte effettive rispetto alla missione per cui sono state istituite particolari criticità poi riguardano fondazione sistema ma toscana in realtà ci stiamo tutti quanti interrogando su quelle che sono appunto le prospettive anche e soprattutto direi le capacità di governance di queste situazioni noi abbiamo detto anche ieri nella scorsa seduta da un lato si interviene come dire a voler cumulare anche compense e le cariche dall'altro però non si vuole assolutamente affrontare la questione delle criticità gestionali se le società partecipate continuano ad essere gestite nella sola ottica come dire di occupazione di posti e di moltiplicazione di poltrone questa è una logica che noi non possiamo accettare c'è un grande lavoro da fare che è quello di prendere sul serio un piano di razionalizzazione che è quello di evitare di continuare a propinare annunci dove si moltiplicano le società partecipate che sembrano quasi la panacea della risoluzione dei problemi della Toscana quando in realtà ciò che emerge oggi è che nessuno pare essersi occupato quantomeno negli ultimi dieci anni della reale funzione di questo tipo di strumenti e di quanto si possa realmente incidere sulle politiche che intendono perseguire invece di come dire essere solo delle macchine che continuano a mangiare soldi pubblici su questo naturalmente c'è un grande lavoro da fare che come opposizione non ci sottraremo certo a portare avanti giornata di riflessione sulla guerra in Ucraina con il Parlamento degli studenti è stata organizzata nella sede del Consiglio regionale questa giornata di approfondimento per parlare delle sfide della politica internazionale per un confronto con le nuove generazioni sulle guerre e sullo scenario drammatico che si sta delineando a seguito dell'aggressione russa anche vista dalla parte dei più giovani e degli studenti una situazione che nessuno di noi ha mai vissuto noi siamo un popolo libero e abbiamo la possibilità di esprimerci di vivere la vita così come siamo abituati a fare grazie a chi prima di noi ha combattuto per la nostra libertà grazie a chi ha resistito grazie a chi ha permesso di diventare la Toscana quella che è una terra aperta una terra inclusiva non è un caso che il simbolo della nostra regione sia il Pegaso Alato il Pegaso Alato era il segno distintivo del Comitato di Liberazione Nazionale e oggi vedere quelle immagini vedere le bombe sulle case che uccidono civili qualcosa che fa male non si può restare inermi rispetto a tutto questo non si può continuare a dire né con l'aggressore né con l'aggredito perché qui c'è qualcuno che ha aggredito e qualcuno che ha subito l'aggressione ha aggredito la Russia di Putin e ha subito l'aggressione l'Ucraina e credo che noi questo dobbiamo dirlo con forza essere vicini al propolo ucraino e lo stiamo facendo con quello che possiamo sostenendo l'arrivo di tante donne di tanti bimbi di tanti bimbi non c'è dubbio che un senso sottile di inquietudine come dire sia nuovamente ricoperto tutta la nostra realtà quotidiana e quindi lo scopo di questi incontri è quello di dare spiegazioni di dare interpretazioni ma anche nei limiti del possibile di rassicurare i giovani rispetto ai rischi o ai non rischi che questa situazione comporta per noi giovani è particolarmente straziante vedere una situazione umanitaria così in crisi così vicino alle nostre porte eravamo forse troppo desensibilizzati a vedere le guerre che però erano sempre lontane invece una guerra così vicina a noi è un'evocazione di quello che noi avevamo sempre letto solo sui manuali scolastici e di sicuro fa paura fa paura anche perché abbiamo visto immagini di ragazzi ragazzi che sono come noi che hanno vissuto fino a ieri la vita come noi andavano a scuola il pomeriggio vedevano gli amici la sera uscivano mentre adesso sono costretti a fuggire a nascondersi in bunker sotterrani o ad abbandonare la loro patria